ciao ragazzi eccoci tornati sul nuovo video di il fan 003 allora manca solamente un like per continuare la serie di minecraft pocket edition survival però pensandoci bene era un po noiosa allora ho pensato di fare tipo 5 modi in cui costruire una casa cinque modi assurdi in cui morire oppure oppure scrivete voi cosa volete intanto oggi sono qui per mostrarvi un video di pacman ok adesso non ho la minima idea di cosa sia di cosa sia successo comunque continuiamo tocchiamo lo schermo sensibilità media e via allora pacman e pacman è ok se qualcuno di voi sa che cos'è pacman me lo scrive nei commenti perché io non ne ho la più pallea va bene continuiamo a giocare allora pacman mangia tutti i pallini vai 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 no viene braccato dai fantasmini e viene mangiato cavolo ce la devo fare anche se no che anche se so che non ce la farò mai io ci provo po mio rosso mi vuole mangiare la strada tagliare la strada e io da lui perché il fantasmino giallo mi mangia ancora una volta ok messaggio a tutti i fantasmini andate a quel paese ok zero vite è bello ho fatto il mio record non faccio niente vai riproviamo ha molto questo gameplay però facciamo modalità difficile facciamo livello 1 da sì tanto è facilissimo infatti infatti muoio subito comunque dai avanti giochiamo il mio trucco è aspettare che i fantasmini smiccinano per prendermi mangiare questa bellissima palla bianca e poi lo al mangiarle anche io venite qui no che toglie da valentino non so cosa c'entri mangiamo tutti mangiamoli tutti devono devono essere mangiati da pacman da una cosa fatta di ecco e volta allora chi di un'altra volta ci ritroviamo a parlare di cosa è fatto ma vabbè lasciamo stare che è meglio allora mangiamo tutto mangiamo tutto questo gioco ce l'ho anche sul pc ed è molto carino sono arrivato a livello 2 asmini mi mangiano no sì 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 è bloccato bloccate dico tutte le volte che ero bloccato ma non è vero potevo comunque farcela sotto lo stato ecco a non valido in gioco più guarda cancello questo gioco guarda ac man rimuovi c'è non l'ho cancellato ce l'ho qui c'è creativo beh anche la pubblicità si mette di mezzo allora facciamo 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 che pizza grazie festeggiamo festeggiamo mi hanno dato il mio portafoglio della giornata breve non lo sapevo di avere un portafoglio grazie mi hanno detto di quanto è la paghezza va bene non importa è un pochino diversa è più più antica è più strana i pallini oh che succede non mi trovo allora 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 oh ciliegina ciliegina ciliegie due ciliegie oh ma sono solo due fantasmi non ho vinco 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 un cavolo qui no forse vinco sì oppure no non lo so scrivete nei commenti secondo voi chi vince la sfida finale tra i fantasmini e pacman pac 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 man se lasciate almeno 5 like o la prossima farò un'altra partita più scatenata pronto a vendicarmi su questi mini robottini rompizzato le fantasmini che non sono neanche fantasmini sembrano più pro piove piove ecco scrivete anche voi nei commenti che cosa pensate che assomiglino sti robi qui tipo ho vinto vai ho vinto yuhuu che continuo non tante yuhuu ok basta adesso ci ha aggiunto un altro fantasmino bello 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 no in realtà è bello un cavolo però va bene dai non so quando questo video uscirà ma io l'ho registrato il giorno eh penso che uscirà questo stesso giorno eh però non si ah è accato un'altra volta odio i fantasmini i fantasmini ah come sempre voglio salutare ehm lion lion vgf gabby 16bit cordan tutti gli uniti youtuber eh tutti i youtuber bravissimi che io seguo molto potete vedere nelle playlist del mio canale youtube ah comunque voglio lasciarvi credo ma forse non lo farò il link in descrizione per un mio amico che fa anche lui video si chiama jumpflit o jump jumpflit eh insomma jumpflit guardate i video fanno minecraft minigame multiplayer oh non mi vuole sono minigame tipo evolution poi penso che faccia ma non voglio rovinarvi la sorpresa ok calma calma io ho un punto tanto così da vincere mi mangia è ovvio è la logica di pacman tu stai per tu stai per vincere il fantasmino che ti rovina le peste però poi vinci lo stesso eh tanto vincere qui vincere là bello il fantasmino che scappa e pacman gigante e pacman gigante niam 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 pacman 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 ciao penso che questo è qui allora volevo salutarvi e fatevela passare bene ciao ciao